Si rinnova il binomio tra la Pallamano italiana e l'Abruzzo. La stagione 2023-2024 del progetto Campus Italia e gli eventi internazionali programmati nel Centro Tecnico Nazionale La Casa della Pallamano a Chieti sono stati al centro della presentazione che si è tenuta venerdì scorso al Museo Archeologico della Civitella. Programma denso di impegni al Pala Santa Filomena dal dicembre 2020 divenuto appunto Centro Tecnico Nazionale della Federazione. Il 15 ottobre le Azzurre dell'Italia Senior Femminile sfideranno la Slovenia per le qualificazioni a Euro 2024 impegno seguito a ruota il 5 novembre dalla Nazionale Maschile opposta alla Turchia per le qualificazioni ai Mondiali 2025. A seguire tra 16 e 17 dicembre le Finals di Supercoppa Maschile poi ancora nel fine settimana del 5 e 7 gennaio la Supercoppa Femminile e soprattutto le qualificazioni agli Euro Under 18 che chiameranno in causa gli azzurrini e i parietà di Olanda, Grecia e Lituania. In occasione della presentazione le parole del Presidente Federale Pasquale Loria. Qui abbiamo la nostra casa, abbiamo deciso di investire su questa realtà che ci ha accolto tra l'altro in maniera spettacolare dalle istituzioni ma in generale tutto il tessuto sociale di Chieti ci ha omaggiato della propria considerazione e del proprio interesse. Quindi siamo felicissimi di essere qui a Chieti di presentare la nuova stagione con tanti eventi e soprattutto la seconda edizione del Campus Italia. Nel frattempo ieri debutto casalingo in Serie a Silver per il Campus Italia la squadra federale che riunisce a Chieti i 20 migliori talenti di 16 e 17 anni sconfitta contro i bolognesi del San Lazzaro ma la priorità rimane la crescita dei talenti azzurri.